Auguri! Tanti auguri a te! Auguri! Tanti auguri a te! Tanti auguri, con setta! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tutti, forza! Tanti auguri a te! Tanti auguri, con setta! Tanti auguri a te! Benvenuti al Ristorante Pizzeria, alle parte del mio studio, per messeggiare insieme la signora Concetta. Cento di questi giorni felici, buon compleanno! Una bellissima sorpresa, signora Concetta, organizzata dai vostri figli. Franco, Giovanna, Antonio, Lucrezia e Danna. Benvenuti al Ristorante, dalle falde del Vesuvio. La direzione vi di grazie di aver scelto questo magnifico posto per festeggiare questo bellissimo evento. Grazie a tutti!